Fellini gira a Marcord. Il grande regista ama il teatro di posa, ama cinecittà. Nel suo gusto artigianale delle cose, toccate con mano, non trascura niente di ciò che alla fine diventa il film. Inventa i suoi personaggi anche nelle sale del trucco, cavando da una faccia un'espressione di addomesticata magia, un'attrazione che sa di pericolo. Davanti a ognuno di questi specchi nasce un personaggio. Il trucco, la trasformazione. Il primo materiale su cui un grande regista lavora sono le facce, nel tentativo di rendere ancora più varia e sorprendente l'infinita varietà degli aspetti umani. La musica. Nino Rota ripete il tema di Marcord. Per molti anni il compositore, morto da qualche mese, è riuscito a interpretare le esigenze di Fellini, a inventare quei motivi inconfondibili, aerei, leggeri, che si accartocciano attorno ad un film, vi penetrano e non si dimenticano più. Costruire un paese, le strade, la piazza, con la neve per terra, a Cinecittà tutto è possibile. Grazie a tutti.